Molti sapranno che nelle Marche, in una cittadina chiamata Loreto, si erge il santuario mariano tra i più importanti al mondo. La Madonna Nera, che attira milioni di fedeli per tutto l'anno, accoglie nella cripta le preghiere e i silenziosi, intimi momenti di profonda grazia nei cuori dei devoti alla Santa Vergine. La credenza più diffusa e certamente la più romantica ci racconta che nel 1294 gli angeli abbiano trasportato fino ad Ancona, sostando prima in Croazia, le pesanti pietre della casa di Maria, che, stando ai risultati delle analisi degli esperti, sembrerebbero essere proprio le pareti della vera casa di Maria. Sembrerebbe infatti che corrispondano esattamente alla data in cui lei visse. Da Nazareth a Loreto, soltanto creature non umane avrebbero potuto compiere un viaggio così lungo e complesso. Secondo i quali esisterebbe un documento, sempre del 1294, riportante il nome di un certo Niceforo Angeli, in occasione del matrimonio della figlia concessa in moglie a Filippo di Taranto, al quale avrebbe portato in dote, per via mare, le sante pietre. Il cognome Angeli sembrerebbe aver dato il via alla fantasiosa leggenda degli angeli. Si narra che una ulteriore ipotesi fosse riconducibile al tentativo di salvare la casa dalle devastazioni musulmane di quel tempo. La casa corrisponde in ogni modo a quella di Maria, mai più ritrovata a Nazareth. I fedeli prediligono la versione romantica, per questa ragione ogni anno sono moltissime le persone inginocchiate di fronte alla cripta. Esistono anche storie di miracoli, alcune comprovate dalla Chiesa, e si crede che in questo santuario i miracoli avvengano sempre in giorni di pioggia. Oggi raccontiamo la storia di un bambino, Martino, nato con una deformazione alla lingua. Il piccolo aveva una lingua talmente lunga e sdoppiata nella parte finale da creargli non soltanto problemi estetici, ma funzionali. Sua madre era costretta ad aiutarlo somministrandogli sempre del cibo frullato o liquido, perché l'enorme lingua non gli consentiva di masticare e deglutire con facilità. Il periodo in cui avvenne ciò, risale agli anni 80-90. Un giorno fu proprio il padre di Martino a chiedere di andare a Loreto e di compiere un viaggio, anche se faticoso, Martino abitava fuori regione, affinché la Vergine Maria guarisse il bambino. Partirono la mattina e viaggiarono per tutto il giorno, costretti a rallentare il proprio viaggio, a causa di una portentosa pioggia. Quando arrivarono a Loreto, dovettero parcheggiare lontano l'auto a causa della pioggia che aveva inondato parecchie vie. Finalmente arrivarono ed era già sera e fuori la pioggia non sembrava voler cessare. La mamma diede in mano al bambino un cero e gli disse «Portalo alla Madonnina e chiedigli di guarirti». Il bambino portò il cero ai piedi della cripta e sorridendo spalancò le braccia, lanciando un tenero bacio e un sorriso alla Vergine. Le incasarono e dovettero viaggiare fino a tardanotte. Quando arrivarono misero Martino a letto e tutti si recarono a dormire. Erano chiaramente molto stanchi. Il giorno seguente il padre e la madre si svegliarono poco prima di pranzo, mentre Martino continuava il suo sonno. Pranzarono e nel pieno pomeriggio Martino ancora continuava a dormire. «Come è possibile che dorma così tanto?» chiedeva la madre, preoccupata per la sua salute. Ma il padre insistette affinché non lo svegliasse. «Si vede che ha bisogno di dormire», replicava. «Lascialo dormire. Mangerà quando si sveglierà». Quando Martino aprì i suoi ridenti occhi erano passate le ventidue. In definitiva aveva dormito un giorno intero. Si era addormentato il giorno prima nel pomeriggio e ora si svegliava la sera del giorno seguente. La mamma iniziò a pizzicargli giocosamente il pancino, provocandogli il solletico e facendolo ridere. Aprendo la bocca fu evidente che la sua lunga lingua era scomparsa. Il giorno stesso lo portarono dal medico che lo aveva in cura, il quale rimase sconcertato e asserì che tale evento non poteva essere scientificamente spiegato. Da allora ogni anno Martino si reca a Loreto a ringraziare la Santa Vergine per quello che per lui è sicuramente considerato un miracolo. I suoi genitori, entrambi i devoti, non resero mai pubblica questa vicenda perché a loro non è mai interessato dimostrare la veridicità di questo prodigioso evento, né hanno mai desiderato ostentarlo e mettersi in mostra. La fede è dopo tutto silente e non si vanta mai delle grazie ricevute. E non è forse questo silenzio che ci porta a credere nella purezza di questa esperienza. Martino è ora un adulto e non ha mai scritto libri per farsi conoscere. Non va in televisione, non cerca notorietà come fanno certi personaggi millantatori di storie talvolta perfino inventate e che utilizzano per ricevere elogi e popolarità. La storia di Martino invece ha sorvolato gli anni nel silenzio ed io sono qui a raccontarla dopo averla ricevuta in confidenza da una sua zia. La racconto perché la trovo bellissima, da condividere per alleggerire i cuori di quanti ascolteranno, siano essi atei o di religioni diverse. Spero che l'esperienza di Martino possa intenerire chiunque perché la tenerezza è il sentimento più caro da sentire, il più umano e divino nello stesso tempo, come la tenerezza che fa sorgere il sole ogni giorno, che fa spuntare fiori, che trattiene l'amore in ognuno di noi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.